Stava tornando a casa al termine del suo turno di lavoro in un bar di Salerno quando per motivi ancora bene da accettare la sua moto in corsa ha impattato violentemente contro alcuni paletti che delimitano un marciapiede della carreggiata in via Ostaglio a Forni. Per Vincenzo Esposito, 26 anni, residente a San Cipriano Picentino, purtroppo non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Ancora sangue sulle strade salernitane, il quartiere Forni stamani si è svegliato piangendo un altro giovane del territorio. La tragedia si è consumata intorno alle 5.45 in via Ostaglio, all'altezza dell'incorocio con via Cupa Martino, poco prima del distributore di benzina. È stato un automobilista percorrere lo stesso tratto di strada ad accorgersi della presenza di un corpo riverso a terra e ad allertare subito i soccorsi. Sul posto è sopraggiunta un'ambulanza della Croce Bianca, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare che il giovane fosse già morto. Troppo violento l'impatto, sebbene il giovane Vincenzo Esposito fosse in sella alla sua moto, indossando regolarmente il casco. Scattato l'allarme, sul posto sono arrivate subito le pattuglie della Polizia e dei Vigili Urbani, che hanno chiuso la strada che da Forni conduce verso Giffoni Vallepiana e San Cipriano Picentino, dove il giovane risiedeva con la famiglia. La strada è rimasta chiusa per oltre tre ore per consentire agli agenti di polizia di effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente. L'ipotesi più accreditata sembrerebbe quella che il giovane abbia perso il controllo del mezzo, finendo contro il paletto che è stato divelto e sbalzando qualche metro prima di impattare al suolo, ma allo stesso tempo non è dato di sapere che a quell'ora di buon mattino possa aver sterzato per evitare qualche altro mezzo in direzione opposta. Sull'asfalto ci sarebbero comunque tracce di una frenata. Strazzo e dolore con l'arrivo sul posto dei genitori allertati dalla polizia e giunti in via Ostaglio. Rabbia tra i residenti della zona che stamane hanno fatto rilevare agli agenti presenti sul posto la pericolosità della strada attraversata da mezzi pesanti che spesso percorrono il tratto di strada di Forni ad alta velocità. Un pericolo continuo soprattutto per i motorini, per le numerose buche e per la strada dissestata in alcuni punti che diventa impercorribile anche per gli stessi pedoni e residenti.